E voilà, l'orologio finito. All'ombra dell'ulivo, perché con la vernicetta, perché adesso tiriamo via anche lo scatolone, così fa tempo ad asciugarsi anche la vernicetta. Eccolo qua, di dietro. La Mariella che sta curando le piante grasse. E la crostata di mele, ovviamente, perché ha cambiato pagina adesso. Ecco fatto. Qui c'è lo scaccia pensieri. E quando praticamente basta prendere del tubo, io prendo i tubetti di alluminio da 15, 18, 20, 12, o magari quando faccio i miei lavori che mi avanzano, magari in mezzo a un metro, quello che è, faccio sta rubina qua. Così perdo via il tempo, no? Da pensionato, invece di andare al bar a, come dire, stronzate dalle altre parti, insomma, almeno ci impegniamo a fare qualcosa. Bene. Eccolo qua. Perfettamente funzionante. E fino a un'ora fa, non era altro che un rudere che la gente avrebbe buttato in discarica. Poi di tanto in tanto qualcuno dice, come fai tu ad avere tutta quella roba lì? Vabbè, invece di buttarle via le tenete, e quando serve, da una pentola, da un tegame antico. E questo qui è un tegame veramente di primi del Novecento. E si tirano fuori le cose. Dopo, se non avete i bulini per fare i numeri romani, potete applicarlo, oppure scriverlo col penarello, oppure artisticamente, magari con colore. Basta, tutto qua. Ciao a tutti.